Proprio su questo argomento, da soccorritore a proposito ci sono due fasi tipiche di soccorso che sia su un'urgenza, ma anche su un soccorso normale e nell'ambulanza. Il soccorso ha una fase tecnica dove la persona soccorritore scende, ha davanti solo un paziente infortunato che ha la necessità di essere portato via il meglio possibile nel più breve tempo possibile. Questa è la parte tecnica. Quando il paziente è caricato sull'ambulanza nel tragitto diventa fondamentale la fase dell'approccio psicologico che può cambiare la faccia ad un soccorso, cioè questo paziente e lì diventa persona. Lì c'ha bisogno di comprensione, di affetto, di comunicazione. Poi per risolvere la cosa del burnout, di queste cose qua, noi comunque sempre ma istintivamente facciamo a fine del soccorso, ci parliamo diciamo com'è andata, com'è successo, cosa si è fatto in modo da cercare di scaricare la tensione e condividere in modo positivo l'esperienza perché comunque è pesante. Condivisione che comunque mi sembra che sia un concetto nuovo che sta avvenendo però non tanto differente da come facevano forse restito le tribù di quelli primitivi. Quando c'era un lutto forte, una catastrofe, un qualcosa, si ritrovavano di fronte al fuoco con i loro sciamani, i capori, che ballavano da notte per spalmare, dico io male, ma condividere un evento tragico su tutti. Sì, tra l'altro questa cosa mi fa sicuramente importante questi momenti di condivisione emotiva, di condivisione sociale, anche perché in qualche maniera rispetto a quello che diceva Ghira, possono essere come dire dei segnali, specialmente in quelle culture organizzative in cui l'espressività emotiva e l'idea di una propria vulnerabilità come soccorritore è vista negativamente e quindi l'idea invece di essere come dire soccorritori e persone che provano le emozioni positive o negative e quindi restituire questa come dire, questa maggiore autenticità insomma a chi si confronta con la sofferenza altrui è sicuramente un elemento importante. Hai detto quello esattamente, mi hai letto nel pensiero. Non so se non ci sono più domande possiamo farsi chiudere qui e ringraziandovi davvero tanto per aver resistito fino alla fine e grazie. Grazie a voi, grazie a Giuliano.